Ciao a tutti ragazzi, io sono Pixelpax e oggi ribaltiamo la camera! Non sono impazzito, vi spiego meglio. Prima della pausa che abbiamo fatto in questo periodo mi era venuta voglia di rinnovare un po' camera mia, complice anche quel trend di TikTok che diceva usa questo filtro che ribalta in modo specchiato la tua camera, risulterà molto più bella e poi altri miei amici che avevano ribaltato un po' camera loro ed era molto molto più figa, mi era venuta voglia di farlo anch'io, per l'ennesima volta, cioè camera mia l'ho già rigirata tipo 5-6 volte in 20 anni della mia vita, ma dettagli! Quindi, cosa ho fatto? Ho iniziato a smontare tutto, non vi ho fatto vedere io che tiro giù le mensole e le varie robe che c'erano sopra, anche perché il 90% delle cose me le sono anche tirate addosso, perché sono molto bravo a fare queste cose. E oggi vi farò vedere com'è camera mia dopo il rinnovo, dopo il cambiamento. Ora che sto registrando, per ora ho svuotato soltanto camera mia, ho svuotato tutti i vari armati che vedete alle mie spalle e varie altre mensole e robe così. Domani, cioè sabato, sposterò proprio i mobili e poi rimetto dentro tutta la roba, che per adesso ho dovuto trasferire tutto quanto in sala e c'è un gran casino, ma lascia stare. Ma salve! Giorno di cambio, c'è un sacco di eco perché principalmente camera mia è completamente vuota e quindi c'è eco! Eco, 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 eco. Via col trasporto mobile. Ok, sono fuori da camera mia. Dall'ultima ripresa sono passate quasi tre settimane, se non di più. No, sono passate più di tre settimane, sono passate quasi quattro, mi so, perché ho fatto anche il tirocino di mezzo. Cosa è successo? Praticamente la camera era pronta, però mi mancavano le strisce LED nuove e c'erano altre robine da aggiustare, tipo la sedia nuova, tutti i video che vedrete poi qua sul canale. Ogni giovedì alle 14. Quindi ho deciso di, e avevo già fatto questa clip, l'ho buttata via e ne rifaccio una nuova adesso, mostrandovi tutte le cose che ho cambiato. Questa è la porta e aprendola. Appena entrati, chiudendo la porta, ci voltiamo alla nostra destra e troviamo un'attacca panni che probabilmente rimuoverò. E qua volevo metterci un tabellone, tipo in sughero, con la scritta 98 megapixel. E tutte le foto belle che sto scattando in questi giorni, in questi mesi, insomma. Perché, boh, penso potrebbe essere uno sfondo carino. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Poi qua sotto c'è il trasportino di zen, una ciabatta in caso di emergenza, l'attrezzatura per le gare di mini 4VD, e la roba per zen e dei criceti, la sabbia, la paletta e robe varie. Qua appunto del zen che vedete che tolgo, probabilmente. Qua sopra ho sistemato una mensola, lunghissima, sono 2 metri e 20 mi pare, di mensola. Con tutti i peluche, robe varie, Buzz Lightyear, Stitch, RoboSap, insomma, tutti un po' i giochi della mia infanzia. E questa striscia LED che vedete qua sotto, è comandata da Alexa e gira tutto questo lato qua. E poi dopo qua appunto c'ha, se riesco a far vedere, il controller e questa cannellina che ho montato oggi, che porta la corrente fino giù. E appunto posso fargli cambiare colore, o altre robe varie, semplicemente chiedendo ad Alexa. Continuando, troviamo questa libreria, che è quella che avevo già anche prima a colonna, con tutti i miei libri che mi sono piaciuti di più. Poi qua sotto troviamo la gabbia di zen. È stata ridotta notevolmente, non è più a tre piani tutto il resto, per il semplice fatto che zen tanto ormai la usa soltanto per farci la pipì e per mangiare. Oppure per quando lui è a casa da solo, quindi praticamente lo chiudiamo tramite questo cancellino qua. Adesso lui è dentro che sta mangiando il suo fieno. Quindi appunto abbiamo pensato di ridurlo, tanto lui praticamente ci dorme di giorno ma neanche. Così poi adesso alla notte lui dorme sul mio letto. Rondandoci ancora troviamo il mio letto, che è sempre quello da una pezza e mezzo per due metri. Se coperti io li adoro e con la luce azzurra che ho adesso in camera mi piacciono ancora di più. Sopra il letto c'è la finestra, che ho adesso tirato giù le tapparalle perché ormai fa un effetto migliore. Poi ovviamente di giorno sono tirate su, però diciamo così non entra la luce in questo momento. E ho messo queste tende blu, che si intonano poi con gli armadi, che prima erano dall'altra parte della stanza e adesso sono qua. In questo piccolo spazietto c'è il lettino di zen, che lo uso per saltare sul letto. E il mio solito metro, che vi ho già mostrato nello scorso romptore. Dopo gli armadi troviamo questo cubo qua, che è nuovo. Era in camera di mia mamma, adesso lo riporto da me. E dentro ci ho messo tutti gli accessori dei criceti e di zen. Sopra appunto ci sono anche il loro cibo e alcuni snack. Qua possiamo vedere l'altra striscia LED, che corre tutto dietro la scrivania. E l'altra ancora striscia LED, che corre qua sotto. Tutto è sul tema blu, così che illumino appunto la scrivania. La scrivania non ve la mostro ragazzi, perché più o meno è rimasta identica. Lì c'è sempre la mia postazione. Questa è la sedia nuova, che vedrete presto un video qua sul canale. E io l'adoro, si intona con l'azzurro. E ragazzi, guardate che postazione fighissima adesso. Mi piace veramente un sacco. Poi qua, in questo angolo, abbiamo un po' di robe che abbiamo fatto insieme. Come la tavola Ouija di noto megapixel. E i pelucetti della Live. E qua abbiamo le gabbie. Quindi quella di Pulsar. E quella dei due fratellini. Con questa luce qua sopra, che è il mio softbox. Che uso per registrare quando sono in casa. E illumina bene anche la loro gabbia. Qua c'è Crio. Ciao, buongiorno. Che patatino che sei. Sì, anche sui cricetti arriverà presto un video update su tutto quello che c'è stato o non c'è stato. Ho riordinato anche questo compartimento qua. Mettendoci tutto gli accessori per i video e robe varie. Vi farò presto un update sulle nuove trattature che ho preso. Perché abbiamo un sacco di chicche su cose per notato megapixel. Bene, dopo settimane che ci smanetto dietro a camera mia, posso finalmente considerarla terminata. Adesso veramente c'è tutto. E ho fatto un upgrade come Dio comanda. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto ricordo di lasciare un bel like e di commentare qua sotto. Vi ho fatto un sacco di domande durante il video, quindi io gli aspetto le risposte. Ti ricordo inoltre che in descrizione trovi i link per tutti i miei social. Se ti va di seguirmi a me fa sempre piacere. Anche perché così rimani aggiornato sulle novità, su quello che faccio. Mi puoi fare domande su Instagram. Vi rispondo sempre. Quindi, why not? C'è anche il gruppo Telegram, canale Telegram. Se vi va di seguirmi anche lì. Ho aperto anche un link per le donazioni per supportare nel montato Megapixel, sia ma che ne avete voglia. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.